Il santo che viene dal mare è sempre più al centro di Bari e la volontà esposta in conferenza stampa dall'associazione San Nicola in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale. Si chiama una statua di San Nicola ed è il progetto presentato per valorizzare ulteriormente la figura più iconica del capoluogo pugliese. Tre sono i pilastri previsti, il primo prioritario consiste nell'edificazione di una statua colossale in onore di San Nicola che accolga pellegrini e fedeli a Bari. L'altro obiettivo è il deposito dell'istanza di riconoscimento UNESCO del valore di patrimonio materiale dell'umanità per la basilica nicolaiana a Bari e di patrimonio immateriale UNESCO per la festa della traslazione delle sacre spoglie da Mira a Bari nel 1087. Motore religioso e turistico fattori coniugati nella creazione di un parco tematico di San Nicola Santa Claus nel segno della centralità ecumenica e mediterranea di Bari, sancita dalle visite papali e del plurisecolare patronato del santo sui bambini e bambine di ogni parte del mondo. Per finanziare i progetti sostenuti da una petizione popolare si punta sulle opportunità del crowdfunding internazionale che già in molti casi ha evitato affiancato l'impiego di risorse pubbliche. Il prossimo passo sarà una conferenza dei servizi a tema finalizzata a fare del santo venerato in 100 stati del mondo come mediatore tra religioni e culture, un brand territoriale plurisecolare da valorizzare per la ripresa economica nel post-covid-19.